Musica Chiusa la campagna elettorale, urne aperte domenica e lunedì fino alle 15, il referendum decisivo per gli equilibri politici in Puglia, 8 candidati per la presidenza della regione, 28 i comuni chiamati alle urne tra Lecce, Brindisi e Taranto. Maxi operazione antidroga, 18 chili di cocaina per un valore di circa 2 milioni sequestrati sulla Brindisi Taranto, casa in centro a Francavilla Fontana trasformata in un market della droga, in carcere 4 persone. Exilva, l'azienda annuncia nuove fermate da lunedì, l'attenzione ormai è al limite, i sindacati fanno sapere nuove iniziative di protesta, tregua finita. Gli impegni di Taranto, Ardò, Brindisi e Casarano per la Serie D, Lecce atteso dalla doppia amichevole, intervista in esclusiva al patron della Virtus Francavilla, Antonio Magri. Benvenuti a questa edizione del nostro Tg che come sempre apriamo con la pagina regionale, dunque si è conclusa la campagna elettorale, questa che stiamo vivendo, è la giornata del cosiddetto silenzio, adesso la parola va agli elettori con il voto di domani e dopo domani. Abbiamo fatto un servizio per ripirogare quello che accadrà nei prossimi giorni, rinnovo del Consiglio regionale pugliese, 49 comuni che andranno al voto e poi c'è il referendum. Vediamo il primo servizio. In tutte le regioni al voto le urne resteranno aperte domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15. I cittadini dovranno anche esprimersi per il referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari e in alcuni casi per le comunali. Il Viminale ha dato delle direttive per evitare che si formino assembramenti ai seggi, mascherine, distanza e sanificazione. Questo il voto sicuro con entrata nei seggi in maniera contingentata e regolata. Voto a domicilio se richiesto al sindaco per chi è in quarantena o è positivo. Sono 8 i candidati in corsa per la carica di presidente della regione Puglia. Complessivamente sono 29 le liste collegate. 28 invece i comuni chiamati alle urne nel Salento tra Lecce, Brindisi e Taranto. 20 quelli in provincia di Lecce che rinnoveranno i loro consigli comunali. Casarano e Tricase, quelli più grandi con più di 15.000 abitanti. Poi Arnesano, Calimera, Corigliano, Cutrofiano, Gagliano del Capo, Maglie, Martano, Melpignano, Monteroni, Neviano, Porto Cesario e Presicce Acquarica. Un nuovo comune per la prima volta al voto dopo la fusione. E infine Racale, San Pietro in Lama, Sogliano, Surbo, Uggiano la Chiesa e Veglie. In provincia di Taranto i comuni sono soltanto 3. La terza in Manduria con più di 15.000 abitanti. E poi Montemesola, 5 comuni al voto in provincia di Brindisi. Ceglie Messapica, Latiano e San Vito dei Normanni hanno più di 15.000 abitanti. Erchie e Torchiarolo. Per sette di questi, Casarano, Torchiarolo, Cutrofiano, Racale, San Pietro in Lama, Tricase e La Terza, il consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato. Mentre per Manduria, Surbo, Sogliano, il consiglio va al rinnovo per scadenza del periodo di scioglimento per infiltrazioni mafiose. Dopo il primo turno del 20 e 21 settembre, l'eventuale ballottaggio è previsto per i prossimi 4 e 5 ottobre. Torneremo su questo argomento tra poco. Adesso voltiamo pagina. Il rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino, scende in campo insieme ai suoi autorevoli colleghi dell'Università di Puglia a sostegno della campagna lanciata dall'Associazione Culturale L'Isola che non c'è dal nome. Vogliamo anche al sud treni più veloci che coinvolge più di 200 personalità in tutto il mondo, della cultura, del giornalismo e della politica. Sentiamo le dichiarazioni del rettore del Politecnico di Bari, Cupertino. La Puglia è una regione no TAV. Non perché noi la TAV non la vogliamo, ma perché siamo stati negli anni sempre esclusi da quei finanziamenti che hanno portato a creare strutture importanti solo in una parte del Paese. E quegli investimenti in quelle regioni hanno portato sviluppo dell'economia e dimostrato che in tutte quelle regioni in cui è arrivata la TAV c'è stata una crescita significativa della capacità di sviluppare economia di quelle regioni collegate alle capacità di infrastrutture moderne, veloci, sicure, efficienti. Muovere velocemente beni e persone è un presupposto per la costruzione dell'economia. E noi in Puglia vogliamo semplicemente essere trattati come il resto dell'Italia, vogliamo una parità di opportunità. A me piace pensare per il futuro, per il futuro del Politecnico, un Politecnico che nasce diviso tra due città, Bari e Taranto. Mi piace immaginare che in un futuro ci possa essere un treno che unisca le due città, Bari e Taranto, con una fermata presso il campus, presso la sede di Bari, e un'altra fermata presso una nuova sede del Politecnico nel centro della città di Taranto. E' un treno che magari in meno di un'ora ci consenta di spostarci da una sede all'altra. Questo sarebbe un grandissimo vantaggio per i nostri studenti che potrebbero fruire delle attrezzature didattiche, dei laboratori di entrambe le sedi. Per le aziende del territorio che potrebbero più facilmente continuare a dialogare con il Politecnico, rafforzando una consuetudine che è sempre aumentata negli ultimi anni. Sarebbe un vantaggio anche per le altre istituzioni del territorio, per la fruizione dei servizi sanitari, per fare un esempio, nelle due città di Bari e Taranto. Questa infrastruttura creerebbe una vera città metropolitana, collegata con l'Italia, collegata con un sistema ad alta velocità, con il resto dell'Europa. Vogliamo anche al sud treni più veloci. Il resto ci fermiamo. Qualche istante, lo stacchetto poi il Tg di Taranto e provincia. Le notizie di Taranto e provincia. Apriamo con le elezioni. Domani si va al voto, si comincia alle sette. Già da oggi però si è messa in moto la macchina organizzativa con l'allestimento dei seggi. Vediamo nel dettaglio come si voterà. Le aziende sanitarie pugliesi, coordinate da Regione e Prefetture, hanno messo a punto un protocollo sanitario e di sicurezza anti-covid da applicare per le elezioni referendarie, regionali e comunali, che si svolgeranno domenica 20 e lunedì 21 settembre. Per prevenire il rischio di contagio e garantire allo stesso tempo lo svolgimento corretto delle operazioni, hanno preposto un modello con modalità operative precauzionali per l'allestimento dei seggi, le operazioni di voto per i componenti dei seggi e per garantire il diritto al voto, anche ai cittadini in quarantena, isolamento fiduciario e in trattamento domiciliare con i seggi speciali. L'elettore, per esercitare il diritto di voto, deve indossare la mascherina chirurgica. La scheda, dopo la votazione, viene depositata nell'urna per ciascuna consultazione. Le matite, nei seggi dedicati ai malati covid, dovranno essere sanificate al termine di ogni operazione di voto. Tra le misure sono previste accessi contingentati agli edifici che ospitano i seggi tramite aree di attesa esterne, percorsi differenziati per ingresso e uscita con apposita segnaletica. I seggi devono garantire il distanziamento non inferiore a un metro. La disposizione delle cabine deve agevolare il movimento degli elettori per evitare assembramenti. Non mancherà nemmeno il gel igienizzante. L'elettore, però, non deve uscire di casa e andare al seggio se ha sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore ai 37 gradi e mezzo. Contatto con persone positive al covid negli ultimi 14 giorni, quarantena obbligatoria o di isolamento domiciliare. Chi è in isolamento può comunque votare. Entro 14 giorni prima dalla votazione bisognava far pervenire al sindaco del comune nell'equilista iscritto una dichiarazione con la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio con l'indirizzo completo e un certificato rilasciato dalla ASL. Cambiamo argomento. Adesso parliamo delle vicende legate all'ex ILVA. La tensione è ormai al limite. I sindacati hanno programmato nuove iniziative di protesta. La tregua sembra ormai essere definitivamente terminata poiché l'azienda ha annunciato nuove fermate a partire dal lunedì prossimo. Vediamo. Sembra essere finita la tregua tra Arcelor Mittal e sindacati. Rocco Palombella, segretario nazionale della WILM, afferma che le nuove fermate e le riduzioni dell'attività degli impianti comunicate dall'azienda sono l'ennesimo atto provocatorio nei confronti dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali. Il Governo ha dichiarato che la stretta finale sul dossier ci sarà dopo le elezioni. Rispetto alla data indicata come conclusione del coinvestimento dello Stato in Arcelor Mittal, sono rimasti ormai soltanto due mesi entro novembre. Dunque, il Governo dovrà perfezionare o meno l'ingresso di Arcelor Mittal attraverso un riassetto societario. Altrimenti la multinazionale potrà chiamarsi fuori pagando 500 milioni. Intanto in fabbrica Taranto la tensione è ormai giunta al limite e già lunedì prossimo i sindacati metalmeccanici annunciano la programmazione di nuove iniziative di protesta. Sulla necessità di un intervento urgente del Governo si schierano tutte le sigle sindacali dei metalmeccanici. FIM-CISL, FIOM-CGL-WILM e l'Unione Sindacale di Base hanno firmato un documento inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Prefettura, alla Procura di Taranto e ai commissari straordinari di ILVA, nel quale sottolinano che l'ennesima comunicazione da parte di Arcelor Mittal di un'ulteriore riduzione del personale di manutenzione e di esercizio di tutto lo stabilimento viene ritenuta una condizione che possa determinare, di fatto, un elevato rischio di incidente con serie ripercussioni per i lavoratori. Restiamo in qualche modo in argomento. Parliamo dell'acciaio verde a Taranto. Questo non succederà domani, ma le autorità nazionali italiane, la Commissione e il settore siderurgico devono cercare un modo per arrivarci. Così il Vice Presidente della Commissione europea, Tim Mermans, nella conferenza stampa sui nuovi target del clima dell'Unione europea. Dovremo anche aiutare il settore a investire soldi pubblici nella transizione. Ha proseguito, ma se non posso immaginare un'economia europea senza acciaio, non vedo alcun futuro nell'acciaio per come è prodotto oggi. Così Tim Mermans, l'acciaio verde, è l'occasione. Ha concluso per arrivare primi su una tecnologia che tutti vorranno. Immaginate cosa vorrebbe dire per la città di Taranto. Per venire incontro alle esigenze dei cittadini, soprattutto di quelli più anziani, sono state posizionate questa mattina due nuove isole ecologiche per la raccolta differenziata nella città vecchia, ovvero in Piazza Castello, e Corso Vittorio Emanuele II. Vediamo il servizio di Leo Spalluto. Due nuove mini isole ecologiche per la raccolta differenziata sono state posizionate nella città vecchia di Taranto, in Piazza Castello e sul Corso Vittorio Emanuele II, nei pressi della scuola Consiglio per rispondere alle esigenze dei cittadini. Alcuni residenti, soprattutto anziani, si erano lamentati infatti per la distanza eccessiva tra le proprie abitazioni e i punti di raccolta. I ragni hanno provveduto ancora una volta a posare i cassonetti ingegnerizzati sull'asfalto, poi messi in funzione dal personale di Chima Amiu. Sistemati in vari punti del Borgo Antico, anche nuovi cestini per l'immondizia. Alle operazioni ha assistito il presidente di Chima Ambiente Amiu, Giampiero Mancarelli, che abbiamo ascoltato. Dopo una settimana abbiamo ascoltato, abbiamo potuto controllare quelle che erano le criticità e oggi siamo qui a inserire queste due nuove isole, una vicino alla scuola Consiglio, l'altra nei pressi di Via Duomo, nei pressi del Comune. Questo per venire incontro alle esigenze dei cittadini, dei commercianti. C'è una rivoluzione in atto, assolutamente, voluta dalla tenacia del sindaco Rinaldo Melucci. Stiamo lavorando sodo, i dati della prima settimana di raccolta differenziata sono importanti. Certo, ci sono sacche ancora da convincere, con determinazione. Noi lo stiamo facendo, oggi avremo dei pattugliamenti dei nostri ispettori ambientali e puntiamo a sensibilizzare i cittadini. È una rivoluzione importante, ma è un passo per il futuro per Taranto. Stiamo lavorando sulla sensibilizzazione, ma con la compartecipazione dei cittadini, dei migliori cittadini di città vecchia, che sono tanti, voglio rassicurare tutti, e soprattutto con i presidi sociali che ci sono, penso all'Oratorio San Giuseppe, alla Chiesa, ma tante associazioni che sono qui presenti. Da questo punto di vista noi stiamo lavorando di concerto affinché le criticità che normalmente possono avvenire vengano risolte quanto prima. E sempre questa mattina a Taranto è stato presentato un ambizioso progetto che parte da Taranto e punta alle spiagge di tutta la regione Puglia. Un oasi con piena accessibilità per i diversamente abili. Sentiamo Gianmarco Sanzolino. I fari di Canale 85 restano puntati sulla disabilità e su quei diritti troppo spesso negati. In particolare continua la nostra serie di servizi denominata Un mare davvero per tutti. Questa mattina è stato presentato a Taranto un importante progetto che punta a realizzare un oasi con almeno cinque postazioni nelle spiagge pubbliche in ogni comune costiero delle province della regione Puglia. Qui le persone con disabilità motorie e visive potranno avere la possibilità di accedere allo stesso modo di tutti gli altri. Ad idearlo le associazioni Gli Amici del Leone e Contro le Barriere, guidata da Francesco Vinci, che da anni porta avanti le battaglie di questo tipo. Più volte nel corso degli anni, nei mesi estivi, vi avevamo mostrato con lui le diverse difficoltà che incontrano coloro i quali hanno a che fare con una diversa abilità e avevamo posto il problema ai sindaci e alle istituzioni dei territori. Quest'anno qualche positiva novità già si è vista, ma si vuole fare di più. Il progetto infatti punta ad essere realizzato nell'estate 2021. Non devono muoversi solo i privati, ma anche le spiagge pubbliche devono essere attrezzate. Soprattutto i corridoi di accesso al mare, i servizi complementari e quindi docce e altri servizi igienici. Tante sono già le associazioni e gli enti che hanno preso a cuore l'iniziativa. Un progetto in cui si chiede alla Regione di finanziare i comuni costieri per realizzare questo progetto. Che si tratta in poche parole di un'oasi dove sono previste 5 postazioni per disabili motori. In modo che con tutte le attrezzature per poter farsi il bagno in completa autonomia. Il nostro obiettivo è portarlo uno su ogni paese che si affaccia sul litorale della nostra regione. Quindi coinvolgiamo un po' tutta la Puglia, da Bari fino a Lecce. Speriamo di riuscirci. Questo è il nostro obiettivo più grosso. Taranto come la Rur, bonificata dopo l'era industriale. Parliamo adesso dunque di ambiente. L'idea lanciata nel documentario denominato Exit, la via d'uscita, di Antonello Cafagna e Stefania Siamitaio. Il progetto, che poi in realtà è un film di giustizia per Taranto, sarà proiettato nella Villa Peripato venerdì 25 settembre. Oggi c'è stata una conferenza stampa di presentazione che abbiamo seguito per voi. Taranto come la Rur, dal luogo vittima dell'inquinamento a capitale della cultura. Non è solo un'idea, ma è la transizione realmente realizzata in Germania e raccontata dal documentario Exit, la via d'uscita, realizzato dalla regista Antonello Cafagna e dalla coautrice Stefania Siamitaio. Il progetto, promosso da giustizia per Taranto, mira a illustrare la riconversione economica operata nell'area industriale del bacino della Rur in Germania, una situazione per moltissimi aspetti simile a quella tarantina, votata per anni all'acciaio. Negli anni che vanno dal 1990 al 2000, l'area è stata la protagonista del più grande progetto di riconversione d'Europa e uno dei più imponenti al mondo. La Rur ha saputo chiudere con l'era dei combustibili fossili, divenendo uno dei più fulgidi esempi di cambiamento economico, sociale, ecologico, urbanistico e culturale di un territorio. Il percorso della Rur l'ha portata a diventare così capitale europea della cultura nel 2010. Il progetto cinematografico è stato presentato da Leo Laporte e Valentina Occhinegro di Giustizia per Taranto e dagli autori Cafagna e Semitaio. Nasce espressamente con l'intenzione di mostrare alla cittadinanza, ai tarantini, ai nostri concittadini, le possibilità e le potenzialità del nostro territorio per una riconversione economica, sull'esempio della Rur, dove dall'industria sono passati alla cultura, al turismo, semplicemente spegnendo gli impianti. La soluzione non dico che sia dietro l'angolo, magari due o tre angoli in più, però è possibile. Abbiamo impiegato svariati mesi per raggiungere i posti interessati dalle bonifiche della riconversione in Germania. La regione è molto grande, abbiamo potuto visitare però i siti più importanti che hanno caratterizzato l'interesse che abbiamo voluto documentare con Exit. Credo che sia, oltre che per il momento storico, perché è questo il momento storico in cui capirlo, è proprio il messaggio che si deve dare alla città, alla regione e alla nazione, nel senso che un cambiamento è possibile. Il film sarà proiettato venerdì 25 settembre alle ore 20 presso la Villa Peripato. Seguirà un dibattito con i due registi condotto dalla giornalista Mimmo Lagezza. Per accedere bisognerà prenotare il proprio posto attraverso la pagina Facebook di Giustizia per Taranto, presso ottica Occhi Negro e Blood Flower Tattoo Studio. L'assessore all'ambiente, alla legalità e alla qualità della vita del comune di Taranto fa il giro in notturna con i turisti, con le guide dell'associazione Taranto Turistica. Abbiamo anche delle immagini. La città vecchia è un luogo accogliente, ricco di bellezze artistiche, soprattutto un luogo dove ci si può muovere in tranquillità tutte le ore del giorno e della sera. Suggestivo, illuminante e social, ha dichiarato l'assessore Annalisa Adamo il tour della scorsa notte che ha messo in chiaro che gli anni bui sono alle spalle. L'amministrazione comunale di Taranto sostiene con convinzione le iniziative che consentono di riappropriarsi dei luoghi della città, della sua storia e di un sentimento etico verso la bellezza. Restiamo sui temi amministrativi perché ci sono delle nuove zone in città Taranto dove il limite di velocità per i veicoli sarà di 30 all'ora, ma le novità non finiscono qui. Vediamo il servizio. Edifici scolastici tenendo insieme ciclabilità e sicurezza. Dopo le prime tracce della rete delle piste ciclabili che annunciano coprirà l'intera città, si sta procedendo con la segnaletica orizzontale verticale che individua le zone 30, aree dove il limite di velocità per i mezzi a motore è sensibilmente inferiore a garanzia dell'incolumità di pedoni e ciclisti. Presto prenderà le mosse anche la realizzazione della pista ciclabile lungo Viale Virgilio. Sarà riasfaltata, inglobando nella sede stradale il percorso destinato alle biciclette. Intanto sempre a Talsano, ma nel dettaglio in via Cacace, disposta la posa di uno strato di asfalto provvisorio, il cantiere per la riqualificazione dell'arteria fondamentale per la viabilità della borgata ha subito un rallentamento dovuto a un imprevisto intervento di Enel sulla rete elettrica che corre sotto la sede stradale e quindi interferendo anche con i lavori della ditta incaricata dal comune. Due o tre settimane di tempo e poi il cantiere potrà essere terminato. Ma non è tutto. Nel tratto della statale 106 in concessione del comune di Taranto si avvia un nuovo cantiere. Il nuovo asfalto intanto è già stato posato anche nel primo tratto di via Atenisio-Carducci e su una delle carreggiate di viale Unicef. Dopo i lavori, da lunedì proseguiranno anche nel tratto compreso tra la rotatoria di via Consiglio e via Cesare Battisti. Così riparte la seconda fase del grande piano strade e marciapiedi del comune con un ulteriore impegno economico di 3 milioni di euro. E adesso abbiamo la cronaca nera. La polizia stradale di Taranto ha scongiurato la vendita di una vettura di alto valore commerciale oggetto di riciclaggio. L'operazione è avvenuta in collaborazione con la polizia di Palermo. Un primo controllo sull'auto ha consentito di apurare come il telaio sulla scocca presentasse caratteri numerici apparentemente contraffatti di formi sia nella profondità che nell'allineamento rispetto a quelli originali e come lo stesso non fosse presente negli archivi della nazione di presunta provenienza, ovvero la Danimarca. Altri accertamenti fatti dalla stradale hanno permesso di rilevare un ulteriore numero di telaio risultato poi abbinato ad un veicolo di analogo prodotto già oggetto di furto. L'auto è stata quindi sequestrata. I due Tarantini sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di ricettazione. Sono in corso indagini e accertamenti finalizzati ad identificare gli autori delle operazioni di riciclaggio. E adesso la cronaca sindacale è terminato sabato scorso, cioè ieri e oggi, scusate, venerdì 18 settembre, il primo pacchetto di sciopero dei lavoratori del call center System House indetto dall'USB, l'unione sindacale di base. Francesco Marchese del coordinamento provinciale del sindacato spiega ai microfoni di Canale 85 i motivi della protesta. Sa per concludersi il primo pacchetto di otto giorni di sciopero dei lavoratori del call center System House di Taranto proclamato dall'USB. Il sindacato lamenta la decisione aziendale di riorganizzare i turni di lavoro del call center di via della transumanza, allargandoli al sabato e alla domenica, imponendoli unilateralmente e senza confronto con le organizzazioni sindacali. Francesco Marchese, componente del coordinamento USB, segnala inoltre il tentativo di rompere l'unità sindacale, proponendo convocazioni in date separate per le organizzazioni di categoria. USB, nel caso di mancate risposte, è pronta a proseguire la mobilitazione. Situazione che all'inizio dell'estate, a fine luglio, l'azienda aveva tentato di imporre questa profonda riorganizzazione degli orari di lavoro che prevede una estensione della settimana lavorativa su sette giorni settimanali e l'allungamento della giornata lavorativa con l'introduzione di una pausa non retributa. La protesta dei lavoratori all'inizio dell'estate aveva stoppato questo progetto aziendale, la quale però in pieno agosto, ferragosto, ha dichiarato che sarebbe comunque partita. E così è stato. Il 7 settembre ha introdotto questa nuova organizzazione del lavoro, rimanendo ancora una volta indifferente alle comprensibili, legittime rivendicazioni dei lavoratori rispetto alla possibilità di conciliare meglio i tempi di vita familiare e di vita personale rispetto all'orario di lavoro. Ora, ad oggi è in atto una mobilitazione con la quale i lavoratori stanno dimostrando la volontà di farsi sentire, di apportare le doverose modifiche a questo progetto aziendale. Quello che denunciamo oggi è il tentativo aziendale di dividere il fronte dei lavoratori, infatti ha annunciato convocazioni separate delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e questo è il chiaro tentativo appunto di indebolire le capacità negoziali dei lavoratori stessi e delle loro organizzazioni. Il comandante regionale della Guardia di Finanza della Puglia, il generale di divisione Francesco Mattana, si è recato in visita presso la compagnia delle Fiamme Gialle di Manduria, come vedete nelle immagini, nella caserma già sede dell'ex convento di San Michele Arcangelo. L'alto ufficiale accolto dal comandante provinciale, il colonnello Massimo Dell'Anna, ha incontrato i militari del reparto e ha assistito ad un briefing tenuto dal capitano Giuseppe Lorenzo, comandante della compagnia, il quale ha illustrato le principali attività operative del reparto, nonché le più importanti tematiche riguardanti il personale e la logistica. Il generale Mattana ha apprezzato i risultati conseguiti, ha espresso parole di compiacimento e gratitudine alle Fiamme Gialle di Manduria. E adesso andiamo avanti, parlando di una novità nell'edilizia, si chiama bioarchitettura. Tecniche decorative ecosostenibili e interventi di risanamento dell'umidità attraverso miscele reattive e naturali. Sono stati questi alcuni dei temi di stretta attualità per il comparto delle costruzioni, affrontati nel corso di un seminario organizzato da Formedil CPT Taranto, in collaborazione con la sezione tarantina dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura, il Collegio dei Geometri e gli Ordini Professionali degli Architetti e dei periti industriali della provincia ionica. È stato il primo incontro dopo diversi mesi di attività didattica a distanza. La bioarchitettura dunque è un tema che abbiamo affrontato con il presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori e Dili, sezione di Taranto, Fabio De Bartolomeo. Oggi è la seconda puntata di questa attività formativa. Ne abbiamo fatta una online perché con le attività del Covid purtroppo abbiamo bisogno di mantenere determinate procedure. Quindi oggi è l'evento formativo per la parte teorica. Parleremo di intonaci e di recuperi di murature, elementi decorativi con delle aziende specializzate in questi settori e abbiamo la possibilità di avere direttamente dei tecnici delle aziende madri che ci possono esporre la tipologia di materiali. Il tutto è fatto come al solito insieme agli ordini professionali del territorio quindi architetti, geometri, periti e all'IMBAR di Taranto che è la parte della bioarchitettura dell'ordine degli architetti e quindi come al solito la frequenza è importante quindi la permanenza durante anche questi momenti formativi di tecnici a noi ci fa piacere e continueremo ad andare avanti così a promuovere attività nuove, tecnologie nuove, materiali nuovi per il nostro territorio. Questa sera un grande evento sulle frequenze di Canale 85 parliamo della cerimonia di consegna del premio Satirion che è giunto quest'anno alla sua ventunesima edizione la manifestazione che convoglierà al Teatro Comunale Fusco in Via Giovinazzi a Taranto le maggiori autorità civili, militari e religiose sarà trasmesso in diretta come dicevamo a partire dalle 21 sulla nostra rete. Tra i presenti sul palco anche il noto cantante Diodato mentre l'organizzazione è curata dal proloco di Leporano un evento che si rinnova negli anni e che vuole mettere in evidenza le peculiarità della nostra terra ovvero l'archeologia e la storia della città di Taranto ma in particolare in questo caso del versante orientale cioè Saturo Marina di Leporano diretta su Canale 85 alle 21 un appuntamento da non perdere si chiama Smart Graduation Day in pratica è una cerimonia che intende festeggiare i giovani laureati durante il lockdown si svolgerà a Grottaglie il prossimo 23 settembre sentiamo Valentina Fanigliulo la città di Taranto è tra i 142 comuni pugliesi che hanno aderito all'iniziativa dell'assessorato all'istruzione formazione e lavoro della regione Puglia in collaborazione con Anci Puglia rivolto ai giovani che si sono laureati durante il lockdown sono dunque 23 i neolaureati della città delle ceramiche che si sono registrati all'avviso pubblico e che saranno omaggiati nel corso della cerimonia lo Smart Graduation Day che si svolgerà mercoledì 23 settembre alle 18.30 nel Parco della Civiltà saranno omaggiati dunque con la donazione di un alberello di quercia con la targhetta personalizzata con il nome del laureato da piantumare successivamente a cura del comune di Grottaglie e con una pergamena nominativa gli alberi, le pergamene e le targhette sono stati forniti da Anci Puglia e Regione Puglia alla cerimonia prenderanno parte il sindaco della città delle ceramiche Cirodalò l'assessore all'istruzione Elisabetta Dubla il vicepresidente della quarta commissione consigliare Massimo Zimbaro e la consigliera Alessandra Lacava presidente della commissione consigliare politiche giovanili ed entrambi componenti di Anci Giovani Intanto abbiamo la notizia dell'ultima ora è stato varato il calendario della Serie D ovviamente anche il girone H in cui è impegnato il Taranto l'esordio per il Rosso Blu sarà in trasferta a Picerno lo stadio Curcio si giocherà domenica 27 settembre alle 15 quindi questa è la prima giornata del Taranto poi vi ricordo che durante il nostro telegiornale sportivo vi daremo tutte le notizie riguardanti il calendario della Serie D con commenti autorevoli e il TG sarà condotto da Cristina Cavallo dopo l'edizione provinciale di Lecce 400 persone, applausi a scena aperta gli abiti in passerella sullo sfondo le cave di Fantiano suggestive la sfilata Capsule Collection di Commerce Sposi di giovedì sera è stato un successo, un evento di alta moda con cui riparte anche Grottaglie dopo il lockdown di questo evento poi di cui abbiamo trasmesso in diretta la manifestazione Clou vi daremo ampi servizi nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali adesso un'altra notizia o meglio un altro servizio che giunge da Grottaglie gli ultras della squadra biancazzurra dell'Arset Labor Grottaglie hanno fatto una raccolta fondi a scopo benefico, una bellissima iniziativa è stato acquistato materiale scolastico da donare alle famiglie bisognose Lo sport come cultura il tifo, quello sano, genuino fatto di passione verso i colori di una maglia supporto di una squadra come valore sociale ne sono un esempio gli ultras del Grottaglie che hanno deciso di donare all'ufficio dei servizi sociali della città delle ceramiche zaini e materiale scolastico per i bimbi delle famiglie in difficoltà gli ultras, osannati e criticati al tempo stesso al grido di crederci sempre e non arrendersi mai non sono nuovi alla beneficenza seppur in maniera sempre silente dietro le quinte operativi ma senza esposizione mediatica è un impegno sociale il loro che parte da lontano quando aiutarono gli abitanti di Amatrice regalarono abbonamenti ai piccoli tifosi aiutarono l'associazione Medici per San Ciro contribuendo all'acquisto di un'ambulanza ed ancora buoni pasto durante il lockdown gli ultras sono grottaglie non solo nel rettangolo di gioco sono parte di una città e Cone per lei sono sempre pronti a scendere in campo Finisce così il nostro notiziario dedicato a Tarot e Provincia vi ricordo abbiamo parlato in apertura di elezioni e a tal proposito c'è la nostra maratona elettorale che inizierà lunedì alle 15 quindi appena saranno chiusi i seggi vi daremo tutte le informazioni in tempo reale minuto per minuto sui risultati che man mano arriveranno in redazione un'imponente organizzazione di uomini e mezzi come nella tradizione del gruppo editoriale Domenico Distante sarà una diretta a reti unificate con Antenna Sud avremo tantissimi punti di diretta ospiti illustri in studio che commenteranno i risultati delle elezioni ricordiamo il referendum le regionali e anche le amministrative sono 28 i comuni dell'arco ionico salentino che andranno al rinnovo del consiglio comunale quindi diretta elettorale una maratona non stop a partire dalle 15 di lunedì 21 settembre e poi il 22 settembre martedì a partire dalle 11 in mattinata torneremo sempre in diretta per raccontarvi come stanno andando le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali è tutto per Taranto tra poco c'è le notizie che riguardano Brindisi e provincia e poi vi ricordo anche il Tg di Lecce grazie e arrivederci Grazie a tutti Buon pomeriggio 85 News per Brindisi si apre con la cronaca un ingente quantitativo di droghe è stato sequestrato dai poliziotti sulla statale Brindisi Taranto all'altezza di Francavilla Fontana a finire in manette un leccese di 45 anni trovato con della cocaina nell'auto per un valore di 2 milioni di euro è stato fermato la cocaina purissima che se immessa nel mercato avrebbe permesso un guadagno illecito non inferiore ai 2 milioni di euro a finire in manette Vito Cairo 45enne di copertino ad insospettire gli agenti sono state alcune manovre dell'uomo che alla vista di un posto di blocco ha imboccato il primo svincolo disponibile per poi mettersi nuovamente sulla statale eludendo il controllo l'automobilista è stato però inseguito e bloccato sulla statale 7 Taranto Brindisi a bordo di una lancia delta in supporto è giunto un'unità cinofila della polizia di stato di stanza Brindisi il fiuto dei cani ha portato al rinvenimento della sostanza stupefacente nascosta all'interno degli sportelli posteriori della vettura smontati i pannelli interni i poliziotti hanno tirato fuori 15 panetti in tutto per un totale di circa 18 chili nel corso della perquisizione addosso all'uomo sono stati trovati 500 euro in banconote di vario taglio soldi, droghe e auto sono stati sottoposti a sequestro per Cairo invece si sono aperte le porte del carcere droga ancora in primo piano questa volta a Francavilla Fontana sorpresi dai carabinieri mentre confezionavano la droga nel loro appartamento finiscono nei guai manette quattro giovani avevano affittato un appartamento nel centro di Francavilla Fontana per poi trasformarlo in una sorta di laboratorio della droga con la sostanza meglio le sostanze tagliate e confezionate prima della loro vendita a finire nei guai arrestati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia al comando del capitano Gianluca Cipolletta sono quattro giovani della città degli imperiali già noti alle forze dell'ordine e ora accusati di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti ovvero hashish e cocaina droga che i carabinieri hanno trovato nell'appartamento e che secondo la tesi degli investigatori era stato affittato proprio con quello scopo in dettaglio i militari hanno sequestrato 18 grammi di cocaina 30 grammi di hashish vario materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza e 1875 euro in contanti il giovane gruppetto è stato sorpreso dal blitz registrato nella notte tra venerdì e sabato erano circa l'1.30 quando i militari dopo giorni di appostamenti hanno fatto irruzione nell'appartamento mentre i presunti pusher confezionavano la droga da qui l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti come sempre tutta da dimostrare e a stretto giro dopo le formalità di rito il trasferimento a Brindisi direzione Viappia come disposto dal pubblico ministero di turno i quattro francavillesi sono stati arrestati e condotti in carcere grazie al tempestivo intervento di una pattuglia dell'istituto di vigilanza Securitas Puglia è stato sventato un tentativo di furto e danni di una villetta incontrata per le rosse nei pressi della strada provinciale che collega Celi e Messabica d'Ostuni in agro di Celi allarme collegato alla centrale scattato intorno alle 21 di ieri sera un vigilante è stato immediatamente inviato sul posto al momento del suo arrivo i ladri si erano già dileguati senza portare via nulla e dopo il blizzi di ci trasferiamo a Brindisi dopo il blizzi di venerdì mattina che ha portato lo ricordiamo all'arresto di sei persone caccia ad un altro complice della banda di truffatori di anziani sgominata dai carabinieri di San Vito dei Normanni il settimo uomo sarebbe un telefonista si cerca un altro telefonista probabilmente una delle menti della banda per chiudere definitivamente il cerchio sul gruppo di giovanissimi truffatori che selezionava le sue vittime tra le più anziane e indifese non può ancora considerarsi terminata l'indagine condotta dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni che venerdì scorso ha portato all'arresto di sei persone due delle quali rinchiusi in carcere e quattro ai domiciliari per una serie di truffe compiute in provincia di Brindisi nel 2019 i telefonisti avevano un ruolo chiave nell'organizzazione perché erano quelli che restando a Napoli contattavano telefonicamente una serie di numeri a caso di persone residenti in una determinata strada sino a quando non individuavano una potenziale vittima a quel punto iniziava la truffa vera e propria carpendo la fiducia dell'anziano lo si convinceva di incidenti inesistenti dei quali era stato vittima un nipote o dell'imminente arrivo di un pacco postale da pagare in contrassegno solo con le truffe realizzate in provincia di Brindisi nel 2019 la banda era riuscita a incassare circa 25.000 euro in altri 14 casi gli anziani erano stati talmente scaltri da non lasciarsi truffare è stata proprio la loro testimonianza a consentire ai carabinieri di chiudere il cerchio sulla banda le indagini erano scattate dopo un errore compiuto da uno dei telefonisti fino ad allora attentissimo a usare sim card use e getta intestate ad extracomunitari una chiamata fatta ai complici con lo stesso numero utilizzato per telefonare alla vittima ha consentito ai carabinieri di dare il via all'inchiesta così per la prima volta nel sud Italia ai truffatori di anziani è stato contestato il reato di associazione per delinquere e per loro si sono spalancate le porte del carcere ora è caccia all'ultimo componente della banda e riprende seppur parzialmente l'attività all'interno dell'azienda ortofrutticola di Polignana Mare dove lo ricordiamo il 7 settembre scorso è stato individuato un focolaio di coronavirus che secondo l'ASL Bares è stato circoscritto sono circa 200 complessivamente le positività individuate distribuite in 12 comuni di 3 province Bari Taranto Brindisi da oggi l'attività riprende anche se solo nelle aree esterne all'impianto ed è stata inaugurata cambiamo pagina presso il comando provinciale dei Carabinieri di Brindisi una stanza destinata alle audizioni di minori ma anche di donne vittime della violenza non sembra di trovarsi all'interno di una caserma i divanetti lo spazio per i bambini i colori delicati potrebbe essere un salottino qualsiasi di un'abitazione privata se non fosse per quelle due telecamere collocate in posizione strategica è la stanza tutta per sé allestita all'interno della caserma Lorusso sede del comando provinciale Carabinieri di Brindisi e destinata alle audizioni protette di minori e donne che hanno subito violenza è stata realizzata nell'ambito di un protocollo d'intesa tra l'arma dei Carabinieri e il club Soroptimist in provincia di Brindisi esiste soltanto un'altra struttura di questo genere creata due anni fa presso la caserma dei Carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni l'inaugurazione alla presenza delle massime autorità cittadine con soddisfazione che inauguriamo oggi questa stanza è un progetto un'iniziativa di Soroptimist Italia con il comando generale è stata stipulata una convenzione un'iniziativa che ha già permesso di realizzare oltre 180 stanze dedicate in caserma di tutta Italia finalmente anche Brindisi ha la sua stanza dedicata per poter dare la giusta dignitosa decorosa accoglienza alle vittime vulnerabili è un fenomeno importante ma che registra ancora un alto numero scuro diciamo che abbiamo proprio insistito e abbiamo ci siamo focalizzati su questa cosa proprio perché anche durante la pandemia i casi di violenza sono aumentati io direi anche generalmente sia fra i giovani ma anche fra gli adulti uomini verso le donne ma anche verso gli uomini questa è una stanza riservata alle donne vittime di violenza e ai minori quindi è importante che le donne sappiano che esiste questo luogo dove loro possono più confortevolmente e magari in modo più tranquillo avere il coraggio di denunciare le violenze subite e ci trasferiamo a Francavilla Fontana divise scolastiche la preside ci ripense dice libertà di scelta niente divise differenziate niente più gonnelline per le femminucce o cravate per i maschietti niente più stereotipi e niente più proteste o raccolta firme se è stata una battaglia l'hanno vinta mamma e papà del terzo comprensivo di Francavilla Fontana che alla fine hanno convinto la dirigente scolastica Adelaide D'Amelia a fare un passo indietro sull'adozione del nuovo Trascod che tanto aveva fatto discutere se è stata una battaglia alla fine l'ha vinta probabilmente il buonsenso inutile imporre qualcosa che no non andava bene a tutti qualcosa alle difise differenziate giudicate costose scomode persino discriminanti perché portatrici di stereotipi questo dicevano i genitori un pensiero diametralmente opposto a quello della preside che però alla fine il passo indietro lo ha fatto seppur immaginiamo con grande sofferenza per la cordialità dei rapporti con la comunità dei genitori si legge nella comunicazione ufficiale dell'istituto il dirigente scolastico ritiene di ripristinare le divise già adottate nei precedenti anni i genitori sono liberi se preferiscono di adottare un altro modello il dirigente scolastico non la dirigente perché appunto ognuno è libero di essere ciò che vuole se era una battaglia ha vinto il libero pensiero Accordo raggiunto per il trasporto scolastico ad annunciarlo la provincia di Brindisi restano però alcune criticità Accordo raggiunto tra dirigenti scolastici provincia e società trasporti pubblici in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico doppia corsa e doppio turno di entrata e uscita dalle scuole superiori brindisine che sarà operativo già dal primo giorno di scuola il prossimo 24 settembre ovviamente un accordo di base che potrà poi essere limato in fase operativa valutando esigenze e criticità che potranno emergere dopo l'avvio del servizio un punto di partenza importante nonostante alcune limitazioni dettate dalle disponibilità e comiche dell'ente che deve tener conto anche della necessità delle limitazioni di capienza ancora in vigore per i trasporti pubblici consentita solo all'80% ieri abbiamo ricevuto una nota da parte dell'STP dove diceva che comunque finalmente c'è stato un accordo tra i dirigenti e l'ente e l'azienda stessa ci saranno 4 orari 2 di prima mattina degli arrivi degli studenti dalle 8 alle 9 2 per quanto riguarda le uscite le 13 e le 14 però alla fine abbiamo raggiunto l'accordo e quindi i ragazzi il 24 inizieranno le lezioni in maniera tranquilla arriveranno a scuola in tempo consideriamo anche il fatto che non ci saranno più le seconde corse quindi non ci sarà più la possibilità di recuperare l'arrivo a scuola quindi tutti ci dovremmo comunque adeguare un attimino a quelle che sono le linee guida adettate in questo momento sia dall'ente che dall'STP stessa chiaramente bisognerà sempre rispettare i protocolli di sicurezza il mezzo non potrà contenere più dell'80% quindi comunque la gente dovrà rimanere sempre a distanza seduta ognuno al proprio posto con la mascherina e auspichiamo che tutto inizia come deve augurando che non ci siano delle problematiche già dall'inizio della scuola insomma e sorgerà a Brindisi la prima zona franca doganale della ZES adriatica ad annunciarlo l'autorità portuale del mare adriatico meridionale nascono le zone franche doganali per la ZES interregionale adriatica con la prima che nascerà a Brindisi si è insediato il comitato di indirizzo della zona economica speciale adriatica interregionale Puglia Molise presieduto dal presidente dell'autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale Ugo Patroni Griffi è costituita da Annalisa Formosi delegata del ministero dei trasporti Donato Toma presidente della regione Molise e dalla regione Puglia il comitato ha adottato il regolamento di funzionamento già varato per la ZES ionica e successivamente sono stati istituiti due gruppi di lavoro uno per il kit localizzativo indicando nel piano strategico un pacchetto di misure relative alle imposte locali e alle semplificazioni di competenza come esenzione IMU Tasi e Tari e che avrà il compito di interfacciarsi con i comuni ricadenti nella zona economica speciale per individuare e contrattualizzare le forme incentivanti individuate l'altra invece per la redazione di una legge regionale che contempli le semplificazioni previste dalle ZES entrambi i progetti saranno predisposti entro due mesi e nel frattempo i consorsi ASI gli interporti i gestori dei nodi logistici dei retroporti di Manfredonia Bari e Termoli dovranno presentare la proposta di perimentazione per le zone franche come detto però la prima zona franca sorgerà a Brindisi e sarà una zona franca portuale che disporrà di un'estensione di circa 40 etteri nell'area di Capobianco nel porto esterno il comitato ha dettato tempi stringenti formalizzazione entro 60 giorni ed istituzione entro i 60 successivi l'urgenza è dettata principalmente dalla necessità di creare un ambiente attrattivo per le imprese a Brindisi nel tentativo di scongiurare un dramma sociale di proporzioni rilevanti per via della transizione energetica in atto discarica abusiva tra i trulli ma anche tra gli olivi a Francavilla Fontana sporcati da amianto rifiuti e tante civiltà amianto sbriciolato bruciato insieme ad altri rifiuti sanitari elettrodomestici materiale risulta cumuli di immondizia intorno ai trulli eppure dentro tra gli olivi secolari di quel salento da amare eppure violato con i rispettosi comportamenti disgustosi comportamenti agro-extraurbano di Francavilla Fontana in direzione San Michele Salentino quella che vi mostriamo in queste immagini è una strada interna che costeggia uliveti circondata da trulli e bellezze naturali invidiate dal mondo bellezze sacre sulla carta nella pratica macchiate da rifiuti di ogni tipo che costeggiano strade e terreni cumuli di amianto tra scarti di cibo divorati da un cagnolone bianco affamato topi grossi eppure troppo veloci si nascondono tra buste di immondizia e sterpaglie mentre un trullo con i cazzonetti troppo pieni diventa pure lui contenitore di immondizia e vergogna roba da noe roba da asl roba impossibile da accettare vergogna infinita tra le campagne più belle e meno rispettate del mondo e ora le news da lecce e provincia sono trascorsi otto anni dall'aggressione mortale a giovanni mauro un giallo rimasto irrisolto indagata e poi prosciolta una donna gallipolina di 45 anni a chiedere verità e giustizia e ora il nipote era il 19 settembre del 2012 quando il corpo di giovanni mauro 75 anni imprenditore gallipolino venne trovato in questa villetta situata proprio sulla gallipoli lecce giovanni quella mattina arrivò entrò dentro casa poi un difetto del cancello lo ha portato a piegarsi per sbloccarlo ed è stato proprio all'interno che è avvenuta l'aggressione un'aggressione però particolare perché? perché la persona che ha voluto aggredire Mauro sicuramente non era preparata quindi possiamo escludere la rapina le modalità di aggressione sono particolari perché denotano un rancore verso la vittima 12 colpi inferti al cranio che hanno provocato la frattura della calotta cranica e addirittura c'era del liquido ematico sul pavimento della villa siamo nei pressi delle cave Mater Grazia sulla gallipoli a Lezio un luogo cruciale per l'omicidio di Giovanni Mauro perché? perché la persona che è stata attenzionata dalle indagini indagata e che è stata prosciolta ha sicuramente percorso questa strada dopo l'omicidio di Mauro le celle telefoniche quelle che sono state appunto scandagliate anche dalle indagini della procura collocano comunque la persona in quest'area particolare e soprattutto la collocano in sosta in questo preciso punto per un quarto d'ora eppure questi occhi elettronici avrebbero potuto dire la verità sull'omicidio di Giovanni e Mauro registrazioni che non sono state però visionate quali potrebbero essere state le lacune nelle indagini secondo voi? beh sicuramente sono stati trascurati molti dettagli messi in evidenza dalla nostra equip e da parte del tribunale c'è stata poca voglia e attenzione risolvere un caso privo di colpevole dopo tutto questo calvario tra fascicoli persi e insufficienza di prove spero si possa arrivare a una risoluzione definitiva attribuendo la responsabilità a chi ha commesso questo reato stalking ad una cassiera del supermercato indagato un 53enne successo a Racale la vittima è una cassiera che terrorizzata anche solo l'idea di poter incrociare lo sguardo insistente dello spasimante era stata costretta a modificare le proprie abitudini di vita e parliamo di sfruttamento del lavoro su 49 dipendenti in 36 sono risultati irregolari e 3 impiegati in nero uno soltanto è risultato destinatario del reddito di cittadinanza e questa è la scoperta fatta dai carabinieri del comando provinciale di Lecce che in collaborazione con i colleghi del nucleo ispettorato del lavoro del nucleo operativo del gruppo tutela del lavoro di Napoli ma anche degli ispettori del lavoro hanno eseguito controlli in 11 imprese impegnate nei settori edile e agricolo situati nei comuni di Lizzanello Melendugno Otranto Galatina all'esito delle verifiche finalizzate a contrastare il fenomeno dello sfruttamento del lavoro che si sono svolte per una settimana è stata sospesa un'attività e sono state inflitte le vediamo in queste immagini del nucleo operativo sono state inflitte sanzioni amministrative per circa 15 mila euro e ammende per quasi 110 mila euro ed ora parliamo di porti pugliesi perché un nuovo percorso di studi è stato promosso dall'Unisalento in vista del nuovo anno accademico si intitolerà diritto ed economia delle attività logistiche produttive il master di secondo rivillo che vedrà la partecipazione accanto ai docenti dell'ateneo del capologo salentino anche dell'autorità di sistema portuale del marionio di confindustria puglia e tra gli altri anche dell'università Roma 3 ed ora vi proponiamo il messaggio del rettore dell'università del salento Fabio Pollice in questi giorni è ripresa l'attività didattica per il momento per due settimane sarà soltanto in modalità in remoto in teledattica questo per consentire agli studenti e le studentesse di organizzarsi al meglio in attesa che invece il 5 si parta con la modalità che abbiamo detto il 5 ottobre la modalità che abbiamo detto parallela cosa vuol dire? vuol dire che le lezioni per larga parte dei corsi saranno tenute in aula ma saranno contestualmente trasmesse in remoto attraverso la nostra piattaforma dedicata per gli studenti che volessero seguire le lezioni in presenza abbiamo creato un'app specifica che consentirà loro di prenotarsi e questo dunque consentirà di avere un dimensionamento dell'aula in presenza che non sia superiore alla capienza stessa dell'aula al 50% e questo dunque è un invito per tutti gli studenti che volessero seguire in presenza a prenotarsi attraverso quest'app per i corsi invece in cui non potremo partire con questa modalità parallela abbiamo previsto delle attività di mentoring sono in realtà delle attività che consentono di coinvolgere gli studenti attraverso iniziative che vanno a arricchire e qualificare l'offerta formativa l'obiettivo è quello di sfruttare se volete questo momento di difficoltà per sperimentare nuove forme di interazione fra i docenti e gli studenti per cui fare tesoro dell'esperienza pregressa ponendo in essere delle azioni fortemente innovative in linea con quella caratteristica innovativa della nostra università è evidente che l'emergenza sanitaria va affrontata anche con azioni concrete con comportamenti responsabili da parte di tutti a partire proprio da voi studenti io devo dire che come Ateneo abbiamo posto in essere azioni che limitano fortemente i rischi di contagio ma ovviamente la responsabilità individuale è fondamentale e questo dunque è l'invito che rivolgo a tutti voi di evitare assembramenti evitare qualsiasi iniziativa che possa in qualche modo favorire il contagio peraltro l'auspicio è anche che scarichiate l'app Immuni che consente in qualche modo di sapere nell'immediatezza se si è venuti a contatto con qualcuno che ha contratto il virus ecco perché è così importante scaricare quest'app per il resto io sono certo che se noi porremo in essere queste iniziative se porremo in essere comportamenti responsabili potremo portare avanti con successo anche questo semestre anche questo inizio di anno accademico io mi auguro che questo anno accademico possa soddisfare le vostre aspettative possa portarvi su un percorso di crescita e con questo auspicio che auguro a tutti voi un buon anno accademico saremo sempre una comunità coesa e convergente l'unico obiettivo è crescere tutti insieme grazie e questo appunto il messaggio del rettore dell'università del Salento cambiamo pagina è stata letteralmente cancellata dall'ultima mareggiata alla spiaggia dell'orsetta a Torre dell'Orso l'erosione è uno dei problemi principali soprattutto della costa adriatica un allarme che però riguarda tutto il pianeta per tale secondo le previsioni contenute in uno studio pubblicato nei giorni scorsi dallo Joint Research Center e dalla Commissione Europea basta però uscire di casa e vedere che cosa è accaduto nelle ultime ore nel territorio salentino precisamente a Torre dell'Orso dove in tanti leccesi e non hanno una seconda casa e che la scelgono come meta per le loro vacanze una tragedia perché la spiaggia di Lido l'orsetta non c'è più un mese fa avevamo parlato di questa problematica intervistando proprio i proprietari che ci raccontavano di una struttura che fino a qualche anno addietro contava addirittura 400 ombrelloni adesso sono appena 19 anzi ora sono diventati zero perché il mare con la sua ultima mareggiata ha letteralmente cancellato il litorale nord di Torre dell'Orso una tragedia soprattutto per chi ha investito a livello economico ma anche dal punto di vista ambientale dall'amministrazione comunale ci fanno sapere che è pronto un piano per combattere l'erosione costiera non c'è dato però ancora sapere quali saranno le prime manovre se dei pannelli come accade nella zona alta del litorale adriatico oppure qualche opera importante di rifacimento quello che però è certo è che la spiaggia di Torre dell'Orso come altre su tutto il litorale adriatico come avviene ad esempio nella zona dei laghi a limini a otto sta letteralmente sparendo e mese dopo mese e anno dopo anno metri di litorale si stanno letteralmente cancellando mangiati dal mare una tragedia per soprattutto chi ama quel tratto di costa ma soprattutto per tutto l'ambiente un trasporto speciale per permettere a disabili ma anche agli anziani di compiere il proprio dovere civico vediamo come funziona nel servizio una mano a chi ha voglia di contribuire all'elezione del presidente della regione Puglia alla scelta dei consiglieri regionali del prossimo mandato e a quella che sarà la decisione del referendum un modo per tutti per partecipare a questa grande consultazione che è in programma per domenica 20 e lunedì 21 il comune di Lecce infatti ha predisposto il servizio di trasporto dei cittadini elettori con disabilità e degli anziani presso qualsiasi seggio della città il mezzo a disposizione avrà a bordo infatti un autista ed un assistente qualificato il servizio che sarà effettuato dalle associazioni handicap e solidarietà e l'integrazione Ollus è attivo dalle ore 7 fino alle 23 di domenica 20 e dalle 7 alle 15 di lunedì 21 settembre per soffrire del servizio sarà necessario contattare i numeri 0832 6822 79 o 0832 682300 modo per permettere a tutti di partecipare alle elezioni e di compiere il proprio dovere da cittadini la camera civile salentina ha istituito anche una sezione sportiva i dettagli la camera civile salentina lancia la sezione sportiva in ragione al riconoscimento del diritto sportivo quale ordinamento settoriale riconosciuto anche dalla corte costituzionale con la decisione numero 160 del 2019 focus della sezione sportiva della camera civile salentina così come si legge in una nota stampa diffusa sarà quello di offrire a coloro i quali possono essere tutt'ur considerati addetti ai lavori naturalmente ponendo particolare attenzione riguardo all'ambito forense uno strumento di crescita per operare in un complesso contesto giuridico che come detto si struttura in una molteplicità di fonti e discipline settoriali farà parte dell'iniziale formazione della sezione che evidentemente scrive la camera civile salentina resterà aperta al contributo di tutti coloro che lo avranno voluto l'avvocato Carlo Mormando componente del coordinamento associazione italiana avvocati dello sport regione Puglia è già arbitro presso il corregio regionale della Lombardia collaboratore del giudice sportivo presso la Lega Nazionale Direttanti della Lombardia dalla Camera Civile Salentina e dal Presidente Donatei grande soddisfazione per questa nuova iniziativa Termina qui l'edizione del nostro TG anche di Lecce vi lascio le notizie sportive con la collega Cristina Cavallo vi auguro buona giornata Grazie a tutti per la visione